Un anno difficile che tutte le istituzioni hanno vissuto insieme, superato solo grazie ai cittadini e alla solidarietà. Pensa alle decisioni assunte nella sede dell'Ulss, sei poche ore dopo la diffusione della notizia dei primi casi di coronavirus in Veneto, un anno fa, mentre a Vossi vive una cerimonia nel rigido rispetto delle regole, il prefetto di Padova Renato Franceschelli. E con tono pacato, le sue parole si rivolgono a chi ha con selve negli stessi momenti, sta facendo un presidio contro i vaccini. Mi fa un po' specie, insomma anche rabbia, diciamo, usando la parola, che in questo momento mentre noi facciamo questi discorsi qua, qualche chilometro qui in pianura c'è qualcuno che fa uno stand per spiegare perché non mi vaccino. Ognuno di noi ha una coscienza e un obbligo di responsabilità verso se stesso e verso gli altri che, insomma, dovrebbe, con un po' di rabbia dovrebbe farci pensare anche a qualche decisione un po' più drastica, insomma, quando si trovano delle posizioni stupidamente negazioniste. Però per fortuna sono poche. Il piano vaccinale per la provincia di Padova può essere completato, non ha dubbi il prefetto, bastano i vaccini. Il suo sogno adesso è un sogno semplice, condiviso da tutti noi. Il mio sogno oggi è un cinema e una pizza. Non avrei mai pensato che mi accontentassi di sogni così modesti. Però oggi il mio sogno è un cinema e una pizza con degli amici.